ciao a tutti cercherò di essere molto veloce perché non vorrei annoiare nessuno allora l'obiettivo di questo video per i poco esperti nei giochi da tavolo per chi cerca informazioni ho intenzione di dargli qualche dritta di fargli conoscere un paio di siti in particolare descriverò un po più in dettaglio un sito dove è possibile anche fare una propria lista di giochi spesso quando si supera un certo numero di giochi le persone possono comprare doppioni perché non si ricorda appunto il gioco se lo ha o no oppure magari vuole venderlo oppure vuole acquistare un gioco che magari non è più non si trova più perché è finito di stamparlo quindi i negozi non lo hanno più questo sito offre tutto questo in maniera gratuita basta registrarsi appunto gratuitamente il sito è bgg board game geek eccolo qui allora prima di parlare di questo qualche cenno sui giochi da tavolo e dove trovare informazioni allora per chi inizia da zero io vi consiglio di dare una letta al sito trovando le informazioni sul sito su wikipedia sul spil de jares scritto così gioco dell'anno in tedesco leggetevi questo qui e capite che che scegliere un gioco fra questa lista non è quasi mai sbagliato un altro sito abbastanza importante è la tana di goblin dove trovate la tana la tana di goblin italiana che è goblins.net ma non ricordatevi questo scrivete tana di goblin su google ve lo ricercherà loro è abbastanza sintetico fatto bene semplice dove trovate un mercatino e una classifica dei giochi da tavolo fatto da loro allora anche qui trovate dei giochi un po particolari che magari sono finiti di stampare ma il sito di cui parleremo particolarmente stasera è board game geek come avevo accennato inizialmente per quale motivo è il sito di riferimento mondiale dei giochi da tavolo qui all'interno non ricordo dove purtroppo ci sono annotati diciamo informazioni su qualcosa come quasi 40 mila giochi da tavolo il sito si presenta così voi qui avrete un login io già sono entrato nel nel sito e avrete questo questo menu allora quello che vi può interessare adesso non starò nel dettaglio di tutto il sito non andrò nel dettaglio di tutto ma vi farò vedere le cose a mio avviso più importanti allora clicchiamo su bros all board game e qui avrete la classifica mondiale dei giochi da tavolo che cosa significa tutti gli appassionati i giochi da tavolo che conoscono si iscrivono in questo diciamo sito e votano i giochi in questo caso e sia una classifica abbastanza dettagliata giusto per farvi capire nella classifica della tanna di goblin ne sono nove per quale motivo in italia non è molto diffuso il gioco da tavolo e poi magari è poco nessuno magari si iscrive per per votare questi giochi in tutto il mondo anche se la percentuale piccola voi capite che il numero già comincia ad essere un po più elevato qui è 41 mila qui è 16 mila che i 22 mila bello di questo sito che è veramente molto molto completo adesso facciamo la ricerca di un gioco molto facile come ai giochi sono anche divisi non chiedo scusa per categorie artista pubblicatore cioè l'editore e per meccaniche eccetera eccetera voi trovate molte molte informazioni divise per tutte tutte le tipologie ma non andando come ho detto facendo un video molto veloce andiamo andiamo a descrivere le funzioni quelle principali allora questa è la classifica come abbiamo detto mondiale prendiamo un gioco a caso kailus veramente a casa non mi piace assolutamente torniamo al discorso basta che io scrivo kailus e mi entra fuori tutti i giochi con quel nome in questo caso ne sono due quattro sei kailus kailus magna carta kailus 1303 e vi dice a fianco anche l'anno di pubblicazione quindi già avete delle informazioni di cui avete il jack rating ovvero board game a seconda delle alcune come si chiamano va bene comunque è una un un voto medio chiamiamolo così che vi dicevo che perché tiene conto di molti fattori ok di conseguenza kailus è un gioco che ho ricevuto 26.696 voti kailus magna carta the favor che è un'espansione 70 voti andiamo su kailus che è quello che mi interessava di ricercare e allora innanzitutto una volta che voi vi siete iscritti potete dirgli se lo avete se lo potete volete vendere o altro ma questo ne guardiamo dopo a noi quello che ci interessa è la prima pagina quella dove c'è la foto di sfondo già qui trovate quasi tutte le informazioni kailus anno qui è il ravenk overland che sarebbe in pratica la classifica mondiale 75esimo nella categoria strategia è il sessantesimo allora vedete da 25 giocatori il migliore sarebbe in tre giocatori ve lo segnala da 60 150 minuti 12 anni in più e poi voto medio è a 3 8 su 5 allora vi da informazioni sul gioco ovvero l'editore il l'autore eccetera eccetera un'altra cosa molto importante che voi trovate è qua sotto ovvero quest'altro sottomenù che andremo a vedere solo in una piccola parte ovvero le cose principali allora innanzitutto andando appena in sotto trovate questa voce additional suggestion language dependence che dio mi perdoni per l'inglese non necessario in game text questo vuol dire che questo gioco comprato in qualsiasi lingua è possibile giocarlo tanto le traduzioni del una volta tradotto il manuale è possibile giocarlo in qualsiasi lingua perché non ha parti in lingua in pratica all'interno del gioco dove uno ad esempio con delle carte da leggere quindi è possibile prenderlo in qualsiasi lingua poi un'altra cosa importante è e la versione per quale no file andiamo in fila file allora c'è il forum trovate delle informazioni delle persone che ne parlano sul file trovate in questo caso niente strano a perché in italiano non trovate niente potete scegliere qui come vedete anche la lingua se io metto in qualsiasi lingua trovate l'aiuto giocatore quindi è molte molti riassunti diciamo fatti da da appassionati che vi dicevo allora poi dopo i file una cosa molto importante è la versione quante versioni state fatte di questo gioco e qui trovate tutte le versioni del gioco poi espansioni sono state fatte le espansioni sì questo edificio qui nel 2005 poi my game market questa è una tra le parti più importanti per quale motivo io non ho il gioco il gioco non c'è più in vendita perché un gioco fatto nel 2005 quindi non lo ristampano più e lo voglio non si trova in giro market in questo caso lo trovate in vendita su questo mercatino mondiale quindi attenzione che trovate di qualsiasi tipo di paese attenzione agli americani non perché sono cattivi ma perché ci vogliono circa guarda 40 euro in su di spese quindi oltre la cifra questa aspettatevi almeno a un 40 euro in più di spese quindi conviene magari comprarli dalla germania oppure paesi limitrofi che con 9 15 euro lo prendete gli italiani si devono fare sempre riconoscere perché una parte che anche anche i tedeschi diciamo ma perché di solito gli italiani lo mettono io a più infatti vedete che i tedeschi questo sta a 30 ma quest'altro ecco non si è proprio regolato tornando al discorso una volta che avete scelto una cosa molto bella di board game che qui potete scegliere dove comprarlo e a che prezzo in pratica conviene questo qui in particolare perché lo mette a 22 euro clicchiamo sul gioco e vediamo questo è una persona che ha 92 giochi hanno questo quel feedback questo personaggio sia come si dice sia iscritto qui trovate eccolo qui trovate tutte le informazioni e poi potete aggiungerlo al carrello in automatico fa tutto il sito a lui gli arriverà una notifica basta che scrive la cifra della spedizione e quindi vi dirà in automatico ci vuole ci vogliono 22 euro più lui ti dice ti dirà una volta acquistato 10 euro di spedizione tu lo paghi con paypal o altro e che ti dicevo e te lo spedisce io non ho mai avuto problemi in vita mia un'altra cosa siccome che spesso le spese spedizione incidono parecchio su sui giochi voi potete anche valutare questo i giochi che a questa persona da vendere cliccando sul suo nome vi comparirà tutti i giochi vedete eccolo qua marketplace item from questo questo nick in pratica e vende tutti questi giochi quindi se voi siete interessati anche a questi a questi altri parte diciamo di giochi potete contrattare con lui per fare una spedizione unica di più giochi risparmiando sulle spedizioni ok spero di esservi stato chiaro spero di esservi stato soprattutto di aiuto e buon gioco a tutti ciao ciao allora